buonasera amici dei pesci ecco qui l'oroscopo settimanale dal 20 al 26 12 2021 continuo ancora con gli oroscopi brevi brevi nel senso nella settimana quindi sono andata a chiedere alle carte nella settimana cosa abbiamo bisogno di sapere di dei fatti delle situazioni quelle più importanti più interessanti da dover eventualmente stare attenti oppure da doversi godere magari il momento e partiamo con voi amici dei pesci poi ripeto aspetto sempre che voi mi commentiate che mi dite se vi va bene oppure volete che io torni agli oroscopi di un tempo e quindi di conseguenza insomma tornerò a farvi l'oroscopo come come prima allora vediamo un po che cosa ci dicono le carte per quanto riguarda l'energia che vi accompagnerà per questa settimana siete un po insicuri quindi c'è un po di insicurezza proprio dal punto di vista emotivo e diciamo che l'energia della prossima settimana è un po sottotono perché presagisce un po qualche problema familiare quindi l'inizio di qualche problema familiare vediamo invece durante la settimana cosa comunque succede avete una donna al vostro vostro fianco che vi aiuta sia materialmente che emotivamente emotivamente è una figura per voi molto importante è come se fosse un punto di riferimento ed è una persona che proprio vi aiuta a cercare di ottenere il meglio quindi vi dà il massimo dei consigli potreste per altri di voi avere un'avventura da risvolti passionali però non è una storia che chiaramente va per le lunghe nel senso se pensate che sia una relazione seria no potrebbe durare magari una notte o una settimana o il tempo insomma che può durare però è una storia che è una storia o meglio una conoscenza o un'avventura che comunque va a terminare poi 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 ci potrebbe essere proprio in merito a questo incontro che chiaramente farete un raggiro quindi aprite un po gli occhietti invece per chi è in coppia dovete stare attenti al compagno o la compagna perché magari potreste essere raggirati anche dal vostro partner o la vostra partner vediamo il consiglio degli angeli e infatti allora gli angeli dicono di fare attenzione e di non perdere comunque le occasioni che sono avanti ai vostri occhi avanti a voi voi magari non ve ne rendete conto però insomma fate attenzione proprio a non perdere queste occasioni dovete cercare di accettare l'aiuto che vi viene offerto da qualcuno e dovete concentrarvi sulle cose che avete mi spizza l'occhio un po scusatemi vi dovete concentrare come vi dicevo sulle cose che avete non desiderate altro o grandi cose ma focalizzatevi su quelle piccole cose che avete tra virgolette concedetemi il termine accontentatevi su quelle piccolezze che la vita vi offre dovete imparare ad accettare prima quello che la vita vi dà quello che avete ok anche se per voi magari sembra poco e poi eventualmente proiettarvi per altro vi sentite troppo soddisfatti ecco perché gli angeli ci dicono questo o meglio vi dicono questo perché vi sentite insoddisfatti e dovreste cogliere le opportunità quindi imparate a cogliere le opportunità che che vi vengono offerte senza fare dei progetti comunque sia a lungo termine questo è quello che riguarda voi per questa settimana quindi dal 20 al 26 dicembre io comunque vi ringrazio ripeto fatemi sempre sapere se vi vedete con l'oroscopo settimanale oppure dovete comunque andare a vedere il vostro scendente perché sempre importante e commentatemi ditemi se chiaramente vi piace ringrazio poi tutti quelli che mi seguono e invece per quanto riguarda le persone nuove che hanno modo di vedere questo video inviterò sempre iscrivervi al canale e a spuntare la campanellina per rimanere sempre aggiornati io vi ringrazio vi mando un bacio buona domenica e anche buon inizio settimana amici dell'acquario buonasera anche per voi con il vostro oroscopo settimanale dal 20 al 26 12 2021 non vi preoccupate non sto prendendo fuoco è semplicemente l'incenso che ho acceso che mi fa stasera non so come mai mi fa questo gran fumo infatti anche io guardavo detto cavolo sto prendendo fuoco no non è fuoco allora e continuo con il vostro oroscopo e chiaramente con sto ancora continuando con l'oroscopo breve e aspetto vostre notizie se vi piace se vi interessa o se magari preferite che io ritorni a fare gli oroscopi di un tempo quindi attendo chiaramente i vostri commenti ringrazio tutti quelli che mi seguono e per quanto riguarda chi si troverà a vedere il video per la prima volta andate anche a guardare gli altri video nell'eventualità se volete avere riscontro vi invito a iscrivervi al canale a spuntare la campanellina per rimanere sempre aggiornati e fatemi sapere quindi commentatemi se vi piacciono questo genere di oroscopi mi sa che ve l'ho già detto sono un po distratta oppure preferite insomma gli oroscopi comunque di un tempo quindi comunque attendo vostre vostre notizie allora partiamo subito con il vostro oroscopo e precisamente con l'energia che vi accompagnerà in questa settimana allora l'energia che avete e che iniziate a voler mollare un qualcosa una situazione che sembra vi sia vi inizi a stare o meglio alle strette e di valutare cosa sia giusto fare vorreste allontanarvi proprio dalla situazione attuale da una certa situazione che state vivendo quindi iniziate a pensare se allontanarvi oppure magari trovare un'eventuale strada diversa da quella che avete iniziato a percorrere vediamo che cosa ci dice comunque la settimana quindi che cosa accade diciamo che avete un'energia per la prossima settimana un po' altalenante un'energia di riflessione un'energia che vi fa vi fa pensare bene prima di dover prendere comunque una decisione quello che accade invece nella settimana e che è arrivato il momento della coesione quindi di collaborare in una determinata situazione con qualcuno dovete me lo dicono anche le carte di quello che accade durante la settimana quindi dovete prima riflettere su cosa vi preoccupa maggiormente e dovete fare attenzione a una figura che vi tiene comunque in pugno e che se vi vuole far male lo può fare senza scrupoli proprio perché vi tiene vi tiene in pugno voi vi trovate la prossima settimana in un momento di crisi perché non avete più voglia di di portare avanti i vostri impegni non avete più voglia di fare nulla quindi vi sentite svogliati ecco usiamo questo termine che è quello diciamo più più giusto perché le cose non stanno andando come voi vi immaginavate o pensavate il consiglio che invece gli angeli vi danno e che state lavorando comunque troppo e c'è troppo squilibrio nella vostra vita e avete anche troppo stress proprio dovuto al lavoro al troppo lavoro che state facendo però la cosa fondamentale che gli angeli vi dicono quindi vi danno come consiglio è che dovete guarire dagli altri magari dovete accettare determinate situazioni o determinate idee e siete proprio voi a dover guarire da chi chiaramente vi vi circonda questo è il vostro è il vostro oroscopo per per la prossima settimana ripeto fatemi sapere perché io li faccio ok però è anche giusto comunque poter avere il riscontro da anche da parte vostra perché magari io vado avanti a raffica però è giusto sapere dall'altro lato se vi piace oppure oppure no preferisco non dirvi il mio parere comunque vi ringrazio vi auguro una buona serata buona domenica per domani e buon inizio settimana amici del sagittario buonasera ecco per voi l'oroscopo dal 20 al 26 dicembre 2021 sto continuando ancora con gli oroscopi brevi perché attendo da voi chiaramente commenti se vi piacciono o se volete che io torno a fare l'oroscopo che facevo un un tempo giustamente chiedo alle carte quali sono quindi la sintesi della settimana e quali sono quali sono le cose le situazioni quelle più importanti da dover stare attenti e da dover insomma aprire magari gli occhi oppure godere se ci sono dei momenti comunque belli allora ringrazio chiaramente tutti quelli che mi seguono per quelli che si trovano a visualizzare il canale per la prima volta vi invito di iscrivervi di spuntare la campanellina per rimanere sempre aggiornati ma mi sono dimenticata di dirvi una cosa se non vi vedete con l'oroscopo che chiaramente dico andate a guardare il vostro scendente perché anche quello è importante quindi questo ci tengo a sottolinearlo proprio perché essendo un oroscopo breve chiaramente non è per tutti magari vi rispecchia di più l'ascendente che proprio il vostro segno zodiacale parto subito con l'energia per voi e vediamo che energia avete la prossima settimana allora dovete fare attenzione a calcolare sempre le cose perché voi siete degli ottimi calcolatori perché quello che voi andate a calcolare se lo calcolate in una maniera sbagliata o se lo calcolate a sfavore degli altri vi potrebbe tornare indietro soprattutto se di mezzo c'è il denaro quindi fate attenzione a questo e occhio ad avere questa energia comunque carica diciamo un'energia un po da egoista da persona egoista ok se vogliamo usare un termine vogliamo dargli un aggettivo poi vediamo invece che cosa succede questa questa settimana settimana che entra allora questa settimana avrete a che fare certo con proprio con i soldi avrete proprio delle notizie in linea generica ok è qualcosa riguardante anche al ai soldi sul piano materiale ci sono delle relazioni poco chiare dove voi comunque vi state rifugiando ormai da troppo troppo tempo e le carte dicono di comunque venire allo scoperto e di guardare in faccia la realtà perché probabilmente avete dei momenti di grande confusione di difficoltà dove alle volte non vi è chiaro qualcosa o siete voi nell'eventualità a non avere chiarezza comunque questa confusione questa difficoltà è anche in qualsiasi ambito cercate di fare chiarezza in voi stessi perché non vorrei mai così come ci dicono le carte che voi cadreste in delle situazioni che vi possono sviare da quella che è la strada che state chiaramente percorrendo la troppa confusione che avete vi porta anche a litigare la prossima settimana però con degli essiti positivi sul piano economico quindi ci sono dei litigi in linea generica ok perché voi siete confusi avete una confusione dove magari non è detto che se siete confusi in coppia litigate in coppia in generale avete comunque una confusione e magari potreste andarvi a scontrare con qualcuno in qualsiasi comunque sia situazione ci sono poi a parte per altri di voi ci sono degli esiti positivi sul piano economico come vi ho detto infatti prima ci sono delle notizie che riguardano anche i soldi e quindi ci sono degli esiti proprio positivi sull'ambito sull'ambito economico poi per quanto riguarda invece gli affari di cuore quindi le relazioni ci so c'è qualcosa che si conclude al meglio con delle ottime novità ci sono delle nuove strade da percorrere quindi per chi in coppia magari ha avuto una discussione viene concluso tutto al meglio per chi invece sta conoscendo qualcuno di nuovo quindi la strada che avete iniziato a percorrere comunque sia sarà positiva cioè in linea generica queste sono le situazioni le cose più importanti da andare a vedere fate chiarezza in voi stessi perché questa comunque è fondamentale proprio per voi ripeto torno a ripetere in qualsiasi ambito dipende voi che genere di confusione avete e dove ce l'avete quindi voi sapete le vostre situazioni andate a mettere le parole che io vi sto dicendo sulle vostre situazioni il consiglio invece che ci danno gli angeli e che potreste innamorarvi di qualcuno di nuovo o invece per altri potreste riprendere la vostra relazione per chi magari è in discussione o ha avuto dei batti becchi o si è lasciato quindi potreste riprendere la relazione questa settimana farete anche una crescita interiore importante e quindi rafforzerete l'intuito e invece per altri di voi ci potrebbe essere l'inizio di un qualcosa di bello di spettacolare magari anche l'andare a vivere da qualche parte o il trovarsi a dover cambiare casa o ad acquistare casa cioè quindi ci sono delle cose importanti e gli angeli giustamente dicono portate pazienza non vi preoccupate perché per voi comunque questa settimana c'è qualcosa di buono quindi non andate in confusione così facilmente e le difficoltà che avete cercatele di superare in modo leggero perché per voi sono previste insomma queste queste cose quindi il consiglio che vi danno aprite gli occhi siate più propensi comunque alla vita ok allora fatemi sapere se vi piacciono questo genere di oroscopi ripeto perché per me è molto importante questa questa cosa e cosa dirvi vi auguro un buon sabato sera una buona domenica per domani e un buon inizio settimana e noi ci sentiamo presto amici del capricorno buonasera anche per voi l'oroscopo settimanale dal 20 al 26 dicembre 2021 chiedo anche a voi di commentare di dirmi se questo genere di oroscopo breve vi piace o altrimenti torno a rifare gli oroscopi che facevo un tempo e giustamente io vado a chiedere alle carte la sintesi delle situazioni quelle più importanti che si possono verificare nella settimana e che chiaramente abbiamo bisogno di aprire gli occhi o di magari godere se ci sono dei bei momenti in più se non vi rispecchiate con il vostro segno zodiacale andate a vedere comunque sia l'ascendente perché vale comunque pure per l'ascendente e parto subito con le vostre energie settimanali allora per voi è previsto di nuovo un nuovo inizio quindi un'energia bella fresca positiva di prosperità e di abbondanza quello che ci dice invece nella settimana è che avete avuto magari qualche delusione e da queste delusioni forse vi aspettavate qualcosa cioè la delusione che in pratica c'è stata e che vi aspettavate un qualcosa di diverso però sembra che ci siano dei miglioramenti ok dove voi questi miglioramenti non li vedete ancora ma non vi preoccupate perché ci saranno delle notizie che vi riveleranno qualcosa che non vi piacerà innanzitutto che sembra che le situazioni siano comunque inconcludenti ok dove avete speso comunque tanta energia e tanto tempo ma come vi ho detto non vi dovete preoccupare perché alle porte per voi c'è qualcosa di nuovo quindi comunque anche se avete avuto questo periodo no e magari continuate ad avere questo periodo no e sembra che la situazione non voglia non voglia cambiare non voglia girare in un altro modo non vi preoccupate perché comunque ci saranno delle belle notizie in arrivo sia sul piano materiale che sul piano sentimentale quindi diciamo è ancora un altro qualche altro giorno ecco qualche altro giorno e questo questo no comunque vi passa perché ripeto avete un'energia comunque sia positiva di prosperità e di abbondanza quindi potete stare tranquilli perché ripeto le notizie arrivano ripeto ripeto perché ne sono certa ok io prima di smazzare le carte comunque mi devo assicurare che quello che mi dicono me lo confermano comunque sia per due volte quindi andate tranquilli a parte quando ve le leggo che ve le faccio vedere in quel momento e quindi lì chiaramente mi tocca fare una stesa e leggervi la stesa che faccio quindi andate tranquilli poi il consiglio che invece gli angeli vi danno e che avete quel senso di leggerezza probabilmente state prendendo delle cose magari con con leggerezza oppure per altri di voi siete troppo cauti quindi i capricorno si si schierano o troppo leggeri o troppo cauti questo nell'ambito materiale quindi con i soldi prendete delle decisioni sul lavoro non vi preoccupate perché le decisioni che andrete a prendere saranno comunque sia ottime e gli angeli consigliano anche di donare qualcosa a qualcuno che ne ha bisogno che è meno fortunato di voi quindi vi chiedono di fare questo gesto ok fatelo perché è importante quando lo dicono gli angeli è veramente importante ve lo posso garantire ringrazio tutti quelli che mi seguono quelli che chiaramente si troveranno a vedere il video per la prima volta vi invito a iscrivervi al canale a spuntare la campanellina ripeto fatemi sapere se questo genere di oroscopo vi piace per me è molto importante ricevere un commento da parte vostra e cosa dirvi vi auguro un buon fine settimana un buon inizio settimana per lunedì attendo vostre notizie e tutto qua cioè io sto sto in fretta a tornare magari a rifare quello che facevo prima però mi è sembrato insomma avevo voglia di cambiare e ho deciso di fare così però è giusto che io chiaramente abbia un riscontro anche da da parte vostra quindi attendo vostre notizie vi mando un bacio e ci sentiamo presto amici dello scorpione buonasera oroscopo per voi dal 20 al 26 dicembre 2021 ringrazio tutti quelli che mi mi seguono invito i nuovi a iscrivervi al canale a spuntare la campanellina giustamente se ne avete voglia sto continuando ad andare avanti con gli oroscopi brevi quindi la sintesi di quello che è la settimana e le situazioni infatti più importanti fatemi sapere giustamente commentatevi commentatemi scusatevi se vi piace o che è un oroscopo del genere oppure devo tornare a quello che facevo prima così come ho detto per tutti gli altri segni passo subito con le energie per questa settimana e vi dico che dovete agire con determinazione quindi dovete eliminare i tempi morti avete bisogno di realizzare in breve tempo tutto quello che volete ecco perché dovete eliminare i tempi morti quindi avete bisogno di darci dentro di di mettere in pratica tutto quello che vi passa per la testa e lo dovete fare anche con una certa fretta quello che invece accade nella settimana è che siete divisi tra due uomini o tra due donne ok chiaramente io mi rivolgo alle donne ma vale per gli uomini la stessa cosa e non sapete cosa fare vediamo un po allora da un lato avete una persona determinata una persona che sa cosa vuole anche se non vi comunica quelli che sono i sentimenti per voi ma sa perfettamente cosa prova non ve li comunica perché non è abituato a farlo invece dall'altro lato avete comunque una persona debole dove magari vi potreste aspettare dei tradimenti vi potrebbe togliere la vostra sicurezza la vostra stabilità e voi siete proprio divise tra queste due figure avete troppe influenze voi dall'esterno che sono negative e quindi cioè ripeto non sapete assolutamente cosa cosa fare e preferite attendere quindi stare in silenzio e aspettare il momento opportuno per poter dire poi per esternare quello che il vostro pensiero è per dire la vostra e lo direte direte il vostro pensiero in modo determinato ecco perché l'energia dice che dovete agire con determinazione quindi voi state ancora valutando state ancora vedendo e poi a un certo punto boom cioè ci sarà questa determinazione che scatterà in voi il consiglio invece che danno gli angeli che vi danno gli angeli è che dovete accettare la guarigione dagli altri quindi voi dovete guarire ok accettare comunque le cose i pensieri magari chi ha una forma di indipendenza nei confronti di qualcuno quindi cercate di di guarire ecco un senso di guarigione state anche voi lavorando troppo ok e c'è questo questo lavoro che state facendo vi provoca comunque squilibrio nella nella vostra vita e quindi dovete cercare di andare a riequilibrare la vostra vita perché è importante probabilmente andando a riequilibrare la vostra vita riuscite anche ad avere una mente comunque tranquilla dove potete tranquillamente senza problemi dover prendere ecco una decisione e quindi esternare quello che il vostro pensiero attualmente avete deciso di stare in silenzio perché state magari ancora aspettando qualcosa o cercando di capire qualche segnale vi raccomando vi auguro un buon fine settimana buon inizio settimana per lunedì fatemi sapere qualcosa è in bocca al lupo ok grazie a voi